Signori benvenuti in una nuova puntata della Desertcraft 4 Allora ragazzi, nella scorsa puntata abbiamo cercato di fare tutti i materiali che praticamente ho ignorato off camera Perché praticamente sono arrivato ad avere il Taldu quasi subito E quindi siamo arrivati anche ad avere il Wikidium che ovviamente ci servirà in queste puntate E ovviamente abbiamo ottenuto anche il Not Farbadium, l'altro che non so minimamente che cazzo di materiale sia Mentre qui ragazzi sto cercando di farmare in automatico la Sand Però perché non vai? Perché non vai? Scusa? Allora, uh Eh, Sand più Glass Cioè, Silica più Eh Cos Non ho capito Te ne ho tolto un pezzo E tu hai iniziato a riandare Ma capirlo Comunque, qua stiamo facendo della Sand Che poi dopo, ovviamente andremo a buttare qui dentro Per poter ottenere là Eh, come si chiama, no? La, mh Singolarità in modo da Ne vogliamo poco Ne vogliamo 128 Quindi sono due stack Non è Non sono tantissimi Allora, eh Detto questo ragazzotti Andiamo a controllare che cosa c'è da fare oggi Quindi Carbon Nanotube Carbon Nanotube ci serve Lo stesso Questo cacchio di Eh Macchinario qua Perché si è bloccata la webcam 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 Gigi Mamma mia Oh Non so perché ogni tanto Oggi mi sta andando problemi la webcam Vediamo Raga, eh Per oggi la disattivo la webcam Non posso farci niente Non so perché mi sta andando problemi Cioè ogni tanto frizza Ogni tanto Oggi è un po' Non ha voglia di lavorare Allora Quindi abbiamo detto Innanzitutto dobbiamo vedere Come funziona La Wikidium Dust E ovviamente Il Protein Fiber Ah Però tu vuoi questo Vuoi quell'altro Vuoi quell'altro Ancora Allora Dovremmo essere in pacifica Perché ho lasciato AFK Il gioco Dobbiamo cercare di liberare Questo Il più in fretta possibile Quindi ragazzi Vediamo fra un po' Ok raga Io nel frattempo Sono stato al telefono La webcam ha ripreso Magicamente a funzionare E mentre ero al telefono Ho finito Tutte queste e queste qua Per completismo Diciamo E in più Ho fatto Lo smasher Smoosher Che è sempre opzionale Questo Non te lo fa fare Obbligatoriamente Però Abbiamo Abbiamo messo Innanzitutto Una fornace A fare A rose Stiamo calmi Oh Era un po' Aggressivo Quello Che è questo Perché mi ha dato Un backpack Oh Buono 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 Ci può servire Ci può servire No Aspetta Come Come lo indosso Scusa Potrei indossarlo Così Sì Perfetto Poi dovrebbe esserci Ok La B Che te lo fa equipaggiare Poi abbiamo messo A farmare La sabbia Ovviamente A farmare Il vetro E E Ah E tra l'altro Abbiamo fatto Anche Il taldo Singularity NG Bla 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 Che genera 1000 RF Al secondo Mamma mia Buono 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 Io la golden apple Però vorrei fare così Vediamo Cosa mi da Dovrebbe darmi Una mela Più Le Pezzi d'oro Vediamo 5 lingotti d'oro Dai Il music disc No La recall potion Spawn point I melon seed Ci abbiamo anche I melon seed Ok interessante Vai 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 Tutto qui dentro Grazie mille Andiamo a prendere La rotten flash La buttiamo Qui dentro Con un po' Di silica Che dovrei avere Qui dentro Thank you Tanto andiamo Ci dè Un po' Di scheletri Che Mi state già Dando fastidio Ah Qua ci sono Delle ossecina Perfetto Dovrei mangiare Effettivamente Mi apri la porta Grazie Lei è molto gentile Allora Facciamo così 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 Perfetto E andiamo a controllare Che cosa ci chiede La prossima quest I carbon nanotube Per l'appunto Allora I carbon nanotube Per fare la singolarità Di quanti ne abbiamo bisogno Di 96 Quindi abbiamo bisogno Di 96 pezzi di coal E 96 pezzi di vetro Ma non è un problema Non è un problema Questo dovrebbe essere 96 Per l'appunto Allora qua Togliamo la protein paste Qua facciamo così Quindi stiamo dando il coal E andiamo a prendere E andiamo a prendere il vetro Che stiamo farmando Come degli zozzi Qui Quindi così E così Ah Ragazzi Questo modpack Secondo me È anche un po' più semplice A meno che non mi smerdi Fra un paio di puntate Però Stiamo farmando materiali A zozzo Proprio tantissimi materiali Solo che Aspetta un attimo Con la protein paste Si faceva Il ciborio Se non mi ricordo male Giusto? Sì Però aspetterei un attimo Perché A quanto visto Ci serve Per fare la cellulosa Se non erro No La cellulosa È carbone Più water bottle Aspetta Però adesso Le water bottle Le posso fare Oh La 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 Allora Fammi vedere Un attimino Me ne fai due Così Abbiamo bisogno Di Esattamente 64 Di loro Quindi Ho bisogno Di almeno 32 bottiglie Oh Non mi ricordo Con uno stack Più o meno Quanto me ne uscisse Però vabbè Possiamo fare così 32 bottiglie Ho detto 32 Perfetto Poi facciamo così Eh Perché non le prende? Santa pazienza Va bene Va bene Abbiamo capito Allora togliamo qua Togliamo qua E togliamo qua Non so se l'acqua si congeli Perché c'è la neve Ma Non penso che si congeli Facciamo così E poi così Certo che sei stronzo Però eh Cioè a non staccarmele Sei proprio Stronzetto Eh Vabbè per ora Andiamo a buttarle Qui dentro Poi andremo a recuperarle Nel frattempo Tu mi stai facendo Il carbon nanotube Abbiamo detto Che ce ne servono Esattamente Due stack Quasi Due stack Uno stack e mezzo Per poter fare Ah tra l'altro Aumenta anche La capienza Della batteria Interesting 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 Sarebbe da capire Se questo Se questo Cosa qua È possibile Diciamo Cioè riesce a Comunque A funzionare Solo con questa Energia Ma penso di sì Non credo Che sia un problema Ok abbiamo il carbon nanotube Ovviamente Come al solito Dove cacchio Ah Mi stavo spaventando Ho detto Vabbè lo mettiamo qui 33 su 96 Ovviamente Acceleriamo Ragazzotti Facciamo Sia questa E nel frattempo Mettiamo anche La cellulosa A fare Ok raga Abbiamo la carbon nanotube Quantum singularity Oh E ovviamente Sapete già Cosa devo fare Allora Ovviamente Io Mi tolgo Tutte le cose Mentre La cosa Ovviamente Che sto facendo Ogni giorno La devo lasciare Lì Ovviamente Allora 1 2 3 4 5 6 Blocchi Perfetto E Altri due fornaci Grazie 1 2 E infine Una bella Crafting table Thank you so much Thank you so much Ah non la Non la butta dentro Ok abbiamo Praticamente finito I Spazi Nell'inventario Che tra l'altro Possiamo Anche risparmiare Tanto le cose Tipo Lingotto Lingotti Non le stiamo usando Non le stiamo usando Cioè usiamo solo Il taldu E cose del genere Allora Mi serve Un Operino Facciamo così Usiamo anche Questa cesta Tanto Non ci serve Più di tanto Prendiamo il taldu Il taldu Taldu E andiamo a Posizionarlo Come al solito Qui Thank you Così E così Dai vieni 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 C'è problema A parte che Mi serve anche La tua carne Quindi Thank you Grazie Molto gentile Sei uno più stupido Dell'altro Ok Ora Iniziate ad essere Un po' tanti Mamma mia Quanto Quanto Cazzo Siete Stupidi Ok Perfetto Io ne prenderei Giusto un paio Perché non so Se magari Mi servono Adesso Per fare Qualche Crafting E andrei A dormire Immediatamente Così Evitiamo Di morire Male Ok Quindi Abbiamo detto Abbiamo fatto il carbon nanotube Adesso ci sposta Verso la cellulosa Cellulosa Che è ovviamente Di cui aveva Avevamo bisogno Dell'acqua Per l'appunto Se non sbaglio Ne voleva uno stack Uno stack Ce l'abbiamo No 32 Ok Bottle Scriviamo bottle Ok In questo modo Si fa la cellulosa Ora Non so Se lui Usando la bottiglia Si svuota Ah no 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 Che Consuma proprio La bottiglia Solo che Vorrei Vorrei Ma non posso Allora andiamo A fare Un altro Operino Fare così No Ecco già Stai facendo Una minchiata E dai E piazzamelo In modo Decente Porca miseria Ok Stai andanzo Stai andanzo Ok abbiamo la cellulosa Ovviamente stesso discorso Dobbiamo fare la singolarità Nel frattempo Andiamo a vedere Cosa serve Il carbon nanotube Con Le protein fiber Otteniamo Le string Invece Poi c'è anche il blocco La singolarità L'abbiamo vista Con la gunpowder Ottengo la redstone Raga Con la gunpowder Otteniamo la redstone E presumo Uh 160 Ah Va bene Va bene Ci può anche stare Però potremmo farmare Dei creeper E ottenendo Un bel po' di Un bel po' di Coso Di appunto Quello Di quello Si quello Il cazzo No Ottenendo appunto La gunpowder Che poi tra l'altro Non so se la gunpowder Potremo Craftarla In qualche modo Si Ma non adesso Probabilmente In futuro Lo potremo fare Molto meglio Che in questo modo Ovviamente Però vabbè Perché Se riuscissimo A fare questo Probabilmente Lo farò io Off camera Andare a uccidere Un bel po' di creeper Per poter ottenere Per l'appunto Le Cosa che volevo fare La redstone Cioè una volta Che otteniamo La redstone Raga siamo a cavallo Redstone gratis Alla grande Alla grande Alla grande Per fortuna Non vuole i blocchi Per fortuna Non vuole i blocchi Però Almeno in questo modo Riusciamo a Che dire Fare delle cose Importanti Redstone gratis Quindi si Adesso mi affaccio Giusto due secondi Voglio vedere se C'è qualche creeper All'orizzonte Gli Stish Creeper Creeperissimo Aspetta So io come far Generare i creeper No però Dovrei fare effettivamente Una Una stanza buia O comunque Far arrivare la notte Vabbè facciamo arrivare la notte Poi andiamo a ucciderne Qualcuno insieme Tanto io sto morendo Di fame raga E non è buono Non è buona Questa cosa Allora Siamo a 50 di cellulosa Dai su Per favore Me ne serve uno stack Dai Dai Su Facciamo Acceleriamo un po' le cose Allora abbiamo la cellulosa Facciamo così 52 su 64 Thank you Infine Dai 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 Più veloce Più veloce Dai Me ne mancano altri 8 Me ne mancano altri 8 Altri 4 crafting Thank you Thank you Dai Voglio vedere cosa ci si fa con la cellulosa Ah nel frattempo che me la fa ovviamente Noi dobbiamo fare questo Eh scusa raga Dobbiamo farmarla la cellulosa Noi farmeremo tutte le cose Che si possono farmare In maniera gratuita Così Questo modpack è pensato per questo Raga eh Cioè non è Non è pensato in altri modi Sarà bello Ehm Avere i tubi Quando avremo i tubi Sarà tutto molto 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 più Easy Easy Altre 6 Quindi dovremmo esserci Bim Cellulosa per noi Cellulosa quantum singularity Ah Thank you so much Andiamo a fare Così Così e così Dovremmo avere ancora una cesta In mezzo alle scatole Così Ripediamo anche un attimino L'inventario Poi il Taldu Taldu Una bella Una bella Cassa Che palle però raga Ehm Senza il cibo E' un po' un casino Non vedo l'ora di avere almeno Gli alberi della Delle mele C'è gli orche Così almeno facciamo le mele E ciccia Thank you Dammi giusto Qualche stack di cellulosa Per vedere se magari mi serve Per qualche crafting adesso Ma cellulosa sicuramente Con legno Sì Allora 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 Quindi Andiamo a vedere Che cosa ci chiede il quest book Prima di pensare alla redstone Raga Ehm Blocco di cellulosa Puoi fare un blocco dalla cellulosa Che può essere usato per costruire Non è esattamente Il materiale più resistente al mondo Puoi avere Nel stage La reclusione di un momento In plant life Vabbè Non so perché mi chiedi un blocco di cellulosa Io te lo faccio Per dovere di cronaca Tieni E basta Ok a posto Poi Ci chiede I brick Ok Quindi così Facciamo vedere E così Perfetto Tieni Te li regalo Senza reward Ok Lo stick Ci stiamo avvicinando Detto proprio Papale papale Dalla quest Vuole un carbon nanotube E della cellulosa Poi lo stick Ah lo stick Non posso farmarlo Quindi carbon nanotube E cellulosa Carbon nanotube Ce l'abbiamo E cellulosa Quindi per il momento Ne facciamo Uno stack E poi vediamo Cosa Cosa ci chiederà Il modpack Di fare Per poter ottenere La legna Ok Ci dai Quanti stick Ce ne dai uno Ok What's brown And sticky Il legno Ovviamente Allora Facciamo così Ah Ecco qua Organically Ratched Sand Trotto qua Sono un po' Bloccato Perché non mi ha ancora Dato L'occhio Dal ragno Purtroppo Allora Questa è tutta cosa Che possiamo fare Mi manca La protein paste Che dovrei avere Organic Sand Vediamo Se abbiamo tutto Ci manca solamente Il bon meal Che possiamo fare Thank you So much Organically Ratched Sand Vediamo Cosa ci serve Abbiamo bisogno Di unire Alcuni Delle cose Che abbiamo trovato In questo Questo mondo Che Ottimicamè Non Ottimicamente Ottimisticamente Chiameremo Organic Ratched Sand Ma Realmente È solamente Uno Degli Ingredienti Base Che ci servirà Nella Quantum Transportation Chamber Nella Per poter Ottenere Ovviamente Un po' Di Sustain Plant Life Ok Ok Ah vuoi nove stick Per fare questa cosa Ok perfetto Not good Che cazzerà Che cazzerà quel rumore A bit like a log No Infine L'axapling Vediamo Blocco Blocco di cellulosa Blocco di cellulosa Con l'axapling Ok Ci siamo Stiamo arrivando Stiamo arrivando Stiamo arrivando Blocco di cellulosa Blocco di cellulosa Abbiamo detto Facciamo così Blocco di cellulosa Con questo Mannaggia Cazzo Quanta energia Voi Poi vabbè Ti faccio Continuare A fare Degli stick Però Sicuramente Ragazzi Servirà La dirt Ci servirà La dirt Nel frattempo Wikidium Dov'è Andiamo a farci L'ascia Di Wikidium Che tanto Ci servirà Prendiamoci anche Un lingotto Di taldu Diciamo così Perfetto Uh L'oac Sapling Perfetto Ragazzotti Perfetto 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 Infine Ci serve La protein Fiber Che è una Wikidium Dust Con la protein Paste Ok Protein Paste Ce l'ho La Wikidium Dust Non ce l'ho Quindi dobbiamo polverizzarlo Però dobbiamo anche dirgli Così Se lui prende Me lo cuoce Cazzo è tutto Uno Silic Dust Magari la buttiamo qui dentro Dai Su Acceleriamo un po' Wikidium Dust Infine Cosa voleva Protein Fiber Ok Era Wikidium Più Protein Paste Perfetto 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 Ragazzi Stiamo arrivando Al legno Stiamo arrivando al legno Stiamo arrivando al legno Abbiamo le protein Fiber La dirt Vediamo come si fa la dirt Vediamo come si fa la dirt Ok Vuole Questo Questo Più Questo Ovviamente Sto cercando di accelerare Il più possibile Perché tanto Sono tutte cose Che poi Riusciremo a farmare In automatico Abbiamo un pezzo di dirt Finalmente Tra l'altro In notte Quindi Io direi di approfittarne Per poter uccidere Un po' di creeper E un po' di zombie Sperando di Figlio della merda Ha girato proprio Nel momento In cui Io lo stavo Attaccando Ok Vediamo Ragazzi Se funziona Se funziona Anche la twerk Si Ma vieni Ma vieni Il nostro Primo Pezzettino Di legna Dammi Più sapling Possibile Oh Raga Raga Che bello Che bello Mamma mia Che bello Strano che però Non mi abbia visto La quest Ah Vuole Otto pezzi Di legna Ok 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 Nessun problema Nessun problema Magari M Si Ah Ah Che bello Che bello Che bello Che bello Quindi abbiamo Finalmente Finalmente La legna Non che ne avessimo sentito La mancanza Perché vi devo dire La verità Non ne abbiamo sentito Per niente La mancanza Qua ci sono Altre quest Da fare Ma purtroppo Uno Il tempo Il tempo a nostra disposizione Finito Due C'è un drop Del ragno Del cazzo Che purtroppo È un po' Raro Intanto Io sto morendo Di fame Infatti Ho messo a cucinare Delle Protein paste Proprio apposta Per Assaltato All'indietro Il ragno Assaltato All'indietro Per attaccare Cazzo Mi ha attaccato Di culo Mamma mia La lentezza La lentezza Voglio morire Comunque raga Devo essere sincero Abbiamo finito La prima pagina Delle quest E Mamma mia Mamma mia Tra l'altro Se non erro Se non erro Per l'appunto Con 320 Pezzi Di legno Possiamo fare La OAC Quantum Singularity E farmare Legno E tra l'altro Anche il charcoal Perché Cioè Se noi buttiamo Questo dentro Col charcoal Cosa Ci facciamo Blastful Nace Possiamo ottenere Qualcosa Di Interessante La black dye No No Non è niente Che Ah si Va bene Il Metallurgic Infuser Ok No Per il resto Si Ci servirà Un po' Di legna Ma Purtroppo Non possiamo Fare Altrimenti Che aspettare Ad averla Ragazzi Tutti La puntata Di oggi Finisce Qui Io ovviamente Off camera Provvederò A fare Tutta la legna Possibile Immaginaria Per poter Ottenere La quantum Singularity Obviously In modo da Poter farmare In automatico Tutta la legna Che ci serve In modo che Comunque Quando avremo Bisogno Di legna Non ci sia Quel problema Prima Mette Tutte Ragazzi Sono Mette Ci vediamo Alla prossima Alla prossima